Ciao, oggi vi presentiamo una chilometra tridimensionale per decolare la scuola, la classe, piuttosto che le camerette dei vostri bimbi. Facile, veloce, economico e misura di bimbo. I materiali per questo tutorial sono schede scaricabili gratuitamente stampabili, corbici, colori, nastro, iniziamo a ritagliare il tutto, incolliamo il nostro nastro sopra e sotto e via una striscia di colla sulla linea lunga. Attacchiamo prima da un lato, ripiegando, e poi dall'altro. E ora decoriamo con le nostre farfalline o fioffetti. Noi le abbiamo alternate, ma se volete potete stampare su carta bianca e colorare il tutto. Un ricciolo finale e voilà, il nostro aquilone è terminato. Se ti è piaciuto lascia un like, ci trovi su Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest e TikTok. Iscriviti al nostro canale.